Beach Village è un nuovissimo centro sportivo in sabbia, sabbia bianca portoghese, attivo tutto l'anno dalla fase estiva come adesso con il campo ovviamente scoperto, alla fase invernale quindi contenso struttura presso statica coperta e sabbia riscaldata. Beach Village non è solo quello perché anche bar è una bellissima area verde e area esterna con tutti i servizi, spogliatoi, docce, quindi tutto quello che c'è bisogno. Il scanso rappresenta sicuramente, spero rappresenti anche in futuro, un polo aggregativo per tutti i giovani perché si tratta appunto di il primo centro in Bergamasca di questo genere quindi il nostro augurio e il nostro lavoro sarà quello di poter coinvolgere la maggior parte dei giovani di scanso ma non solo di scanso in questo centro, quindi sia dal punto di vista sportivo che aggregativo. Una sfida vinta a favore delle nuove generazioni, un investimento messo in campo da dei ragazzi giovani che hanno deciso di investire a Scanzorosciate e spero davvero che questo investimento diventi un centro aggregativo, sociale e portivo per i giovani di Scanzorosciate della provincia. Un progetto molto difficile e complesso ma in soli 11 mesi di lavoro e di studio e di determinazione siamo riusciti a tagliare questo traguardo importante per Scanzorosciate della provincia. L'invito è quello di venire a trovarci, noi da domani mattina saremo attivi quindi potete venire a trovarci da domani mattina e per prenotare i campi basta andare sul sito www.beachvolleybergamo.com oppure scaricare l'applicazione gratuita Match & Joy e selezionare il campo di Scanzorosciate. Basta prenotare online, venire a giocare o venire a trovarci anche per un aperitivo quindi vi aspettiamo.